Ciao a tutti e ben ritrovati, continuiamo con il nostro corso base di Excel e oggi andremo a vedere un po' di funzioni di testo nello specifico andremo a capire come estrarre dati da una stringa allora andiamo subito nel nostro file di esempio che è sempre quello di benvenuto quindi ricordo per chi non l'ha visto, menu file e qui premiamo praticamente su nuovo e qui troviamo il file di benvenuto, quindi cliccando in questo file qua si apre appunto il file che sto utilizzando io ovviamente come sempre l'ho trovato in descrizione se lo vorrete vedere allora ipotizziamo, vedete qui abbiamo praticamente come sempre qui Microsoft ci spiega tutto sulla sinistra passo per passo e ci dà degli argomenti di approfondimento ma adesso noi li approfondiremo insieme molto velocemente allora un esempio, ecco qua, qui abbiamo praticamente una stringa dato che sono tutti praticamente indirizzi email, quindi c'è il nome, il cognome, la chiocciola e il dominio vedete che qui c'è il cognome, quindi qui hanno scritto panicucci mettiamo qua ad esempio Olga adesso noi per farlo su tutte le righe dovremmo stare qui a manina a fare l'operazione però non è molto agile, quindi ci metteremo del tempo se noi andiamo qua, vedete c'è un comando rapido qui gli dice ctrl e, se io mi metto qua e faccio ctrl e ecco che lui calcola in automatico partendo dal nome lui riesce a capire, o dal cognome riesce a capire praticamente il contesto della nostra valutazione quindi vedete, excel è sempre intelligente ci sono dei comandi veramente che se li conoscete vi risparmiate un sacco di tempo anche perché qui non potreste fare un ad esempio sinistra, ok? il comando alla funzione sinistra ci permette di estrarre del testo da una stringa partendo dalla cella, ok? quindi selezioniamo questo, facciamo punte virgola e lì diciamo il numero di caratteri che in questo caso sarebbe 4 per Olga ok? però se poi noi trasciniamo, ok? togliamo questo se noi qui trasciniamo, ok? il risultato non è sempre 4 perché vedete Pio ha 3 lettere quindi tiriamo fuori i nomi nel modo sbagliato ecco, ctrl e è un sistema per tirarsi fuori le informazioni noi decidiamo il primo ctrl e poi lui compila ok? finché trova record le celle successive questo è veramente strategico andiamo a vedere un altro sistema allora praticamente qui che cosa c'è? qui c'è praticamente una stringa ok? che ha diverse informazioni quindi ha Olga, virgola cognome, virgola contoso, virgola magari ce ne sono altre no? quindi vedete qui è proprio nome, cognome e società come facciamo ad estrarre in colonne indipendenti queste informazioni senza doverci mettere qua e fare Olga ok? se noi facciamo ctrl scusate ctrl e ok? lui lo trova come vedevamo prima Pani, Cucci ok? vedete anche qua faccio ctrl e e lui comunque è intelligente lo capisce però anche questa la tecnica che abbiamo appena visto potrebbe essere lenta perché magari abbiamo 50 campi e diventa veramente dobbiamo passarci 50 colonne e fare questa cosa scrivere il primo nome ctrl e scrivere il primo nome ctrl e e così via noi possiamo farlo anche in automatico perché Excel è intelligente anche sotto altri aspetti quindi noi ci selezioniamo il perimetro ok? che noi vogliamo analizzare che vogliamo andare a separare ok? e noi prenderemo queste informazioni e adesso le trasferiremo qua con pochissimi click quindi andiamo nella scheda dati e qui facciamo testo in colonne ok? ecco questo qui è un comando che ci apre praticamente un'interfaccia di gestione dei csv tendenzialmente si utilizza questa procedura per elaborare i file che ci arrivano dall'esterno però è utile anche all'interno di Excel quindi qua vedete c'è il delimitatore che è la virgola allora noi facciamo delimitato perché con lunghezza fissa noi gli daremo una posizione fissa delle nostre colonne quindi noi per questa pratica utilizziamo il delimitato andiamo avanti ecco qua cos'è che divide le nostre colonne ok? lui di default mette la tabulazione ma in realtà per noi è la virgola vedete quando io premo qui ok? se metto la tabulazione non riconosce niente perché non trova niente se metto il punto la virgola non trova niente se mettiamo la virgola ecco che lui riconosce appunto la virgola e mi divide le colonne ok? quando trovo una virgola quindi attenzione perché dopo se all'interno di un determinato campo utilizzate la virgola per fare una soprazione di qualche tipo lui le vede come due colonne differente quindi sempre attenti al carattere che delimita i campi comunque ad ogni modo mettiamo le virgola qualificatore praticamente possiamo mettere anche nessuno perché a volte potremmo vedere ad esempio virgolette orga virgolette quindi all'interno quindi se noi mettiamo il qualificatore mettiamo che ci sono le virgolette lui mi toglierebbe anche le virgolette che magari a noi dà un fastidio in questo caso non ci sono e mettiamo nessuno se c'è un carattere differente perché possiamo usare anche lo spazio ma magari c'è questo carattere qua ok oppure c'è magari anche una chiocciola noi potremmo mettere anche come delimitatore la chiocciola quindi con un altro possiamo mettere la specifica che vogliamo come delimitatore ok fatta sta cosa il grosso l'abbiamo fatto abbiamo delimitato le colonne andiamo avanti e qua ci dice guarda definisci anche come sono i tuoi campi quindi lì possiamo dire se generare un testo oppure una data oppure non importare la colonna e saltala quando io clicco ok se faccio questa questa qui me la salta non me la tira fuori mi estrarà solo queste due colonne qua vedete che quando clicco sulle altre colonne ok riparte da generale adesso noi le tiriamo fuori tutte possiamo lasciare generale in tutto va benissimo così e qua ci dice la destinazione ok questa base di dati qua dove vuoi che te la piazzo ok noi clicchiamo sulla frecciottina e ci mettiamo sulla prima cella da dove noi vogliamo dividere le colonne ok riprendiamo il bottoncino ok e qui facciamo fine sono già presenti i dati ok si vede che trova degli spazi nell'interno di queste celle quindi noi gli diamo ok e lui sovrascriverà questo intervallo ok lo mette in queste tre colonne qua e se ci sono cose all'interno di questo intervallo lui sovrascriverà tutto se non vi da nessun messaggio di errore bene andate avanti ecco qua che noi abbiamo estratto tutto in un secondo sulle tre colonne quindi ripeto se avete veramente tanti campi che dovete poi andare ad estrarre magari anche il control e che già è veramente un grande aiuto comunque vi fa perdere tempo con questa tecnica voi potrete estrarre tutto al volo andiamo giù in fondo e vediamo l'ultima parte allora ci sono appunto delle funzioni che abbiamo visto poco fa praticamente il sinistra il trova il destra e la lunghezza adesso mettiamo questa così finiamo la parte di funzioni di stringa di livello base quindi noi se facciamo appunto sinistra come dicevo prima ok restituisci il carattere a sinistra quindi noi dicevamo appunto che noi ci prendiamo questa informazione qua facciamo punto e virgola e diciamo tirami fuori 10 caratteri ok e lui mi tira fuori Martina FR perché l'abbiamo preso da questa cella qua facciamo ancora un po' di zoom se io ci metto al posto di sinistra ci metto destra ok e faccio invio lui parte dal carattere di destra quindi vedete mi tira fuori SCA Milani quindi parte da qua e conta 10 e va indietro se io qui invece ci scrivo che qua non hanno neanche messo stringa punto estrai ci permette di tirare fuori dalla cella che noi selezioniamo l'intervallo intermedio quindi se noi andiamo qui facciamo la tonda così ci da anche l'aiuto aspettate così lo vedete bene ok non ce lo da ma comunque ho dimenticato la i stringa estrai ecco il perché ci dice da quale testo andiamo da qui ci dice il carattere di inizio quindi noi gli diciamo ad esempio che vogliamo partire dal numero 3 e vogliamo tirarne fuori 10 ok quindi lui che cosa fa vedete io ho scritto carattere 3 quindi lui parta dal carattere 3 quindi MAR e lui inizia a scrivere da quel punto inizia a contare 10 caratteri e ci tira fuori l'intervallo intermedio all'interno della stringa la lunghezza invece che cosa ci fa lunghezza ok ma mi sono dimenticato l'uguale lunghezza la lunghezza ci tira fuori quanti caratteri ci sono all'interno di questa stringa che noi andiamo a selezionare quindi selezioniamo la cella chiudiamo e ci dice che dentro qua ci sono 24 caratteri facciamo l'ultimo trova e dopo facciamo questa funzioncina qua che è un po' più complessa perché poi potete annidare le formule per fare i risultati che più sono a voi necessari quindi facciamo anche il trova se noi qua li diciamo trova ok e diciamo guarda in questa cella qua vai e tu mi cerchi scusate mi cerchi questo carattere qua quindi li sto dicendo cercami lo spazio ok io qua li potrei dire anche un carattere ok ma in questo caso noi cerchiamo uno spazio facciamo punto e virgola da quale stringa ok da questa stringa ok e li diciamo chiudi ok se faccio così lui mi trova il carattere numero 8 noi qui però vedevamo che ci dava anche un inizio quindi se noi facciamo punto e virgola e gli dico ad esempio il carattere 10 ok e faccio invio lui mi dice che lo spazio in realtà è il carattere 18 che è questo qua giù quindi in realtà cosa fa questa funzione qua quando noi andiamo qua li diciamo il testo che noi vogliamo andare a ricercare la stringa che vogliamo andare ad analizzare e poi se non li mettiamo niente lui parte dall'inizio e si ferma al primo carattere che trova quindi al primo spazio che trova non mi trova il secondo ma se io gli dico guarda non partire dall'inizio ma parti dal carattere 10 lui mi trova il secondo ok queste sono tutte cose che poi pian pianino man mano che prendete mano riuscirete ad utilizzare e padroneggiare sicuramente in modo ottimale facciamo ad esempio questa formuletta qua che vediamo qua e vediamo che cosa va a fare praticamente loro qui che cosa hanno fatto hanno fatto un sinistra di questa stringa qua quindi ha fatto un sinistra di questa stringa qua perché poi se noi le eseguiamo qui vedete che c'è Martina ok non mi sta dicendo tirami fuori dei caratteri specifici quindi anche qui se io poi prendo questo e mi tiro fuori ad esempio da qui ok lui mi tirerà fra di Francesca adesso non ho capito perché l'ho sbagliato perché anche qua devo mettere F56 ecco qua vedete tiro fuori Francesca ok quindi riesce a capire il sinistra in modo intelligente ok in base al nome perché lui va e mi calcolo il numero di caratteri che ci sono praticamente dallo spazio quindi che cosa fa in realtà questa formula adesso vedete io qui trascino questo così cambio il riferimento ce ne sono due perché qui ho due riferimenti quindi sul sinistra gli dico quale cella voglio andare ad analizzare poi nidifico ok qui che cosa faccio faccio il trova prendiamo questa cosa così vediamo che cosa esce ok lui mi fa il trova di uno spazio sempre sulla stessa stringa ok e mi dice 8 perché mi dice 1 2 3 4 5 6 7 8 lo spazio è al carattere 8 però noi dobbiamo tirarci fuori solo il nome quindi dobbiamo fare in realtà 8 meno 1 ok quindi noi troviamo uno spazio togliamo noi facciamo la lunghezza ok di questa cosa qua di questa stringa finché troviamo uno spazio quindi troviamo 8 però facciamo meno 1 perché così ci tiriamo fuori il nome e fa 7 questo risultato qui appunto se noi facciamo anche il tasto F9 ok così introduciamo che non l'ho fatto vediamo il risultato della nostra formula quindi sentiamo qua e abbiamo una formula identificata e vogliamo vedere il risultato di questa cosa qua noi premiamo il tasto F9 e senza andare a farcela a fianco come ho fatto io adesso premiamo F9 e lui ci dice guarda restituisce 9 ok se premo invio ovviamente adesso mi compare 9 quindi quando uscite fate sempre ESC ok adesso ho fatto CTRL Z quindi se qua fate F9 poi gli date invio ovviamente lui tiene quel risultato là ok quindi sempre attenti se fate F9 premete appunto il tasto F9 e poi fate ESC così eventualmente annullate tutto bene direi che con questa lezione è tutto ovviamente questo file anche Microsoft qui vi spiega tutto avete le risorse di dettaglio se le volete analizzare come sempre se la risorsa è stata di vostro gradimento condividete il video sui vostri social commentandolo con qualcosa di positivo se vi fa piacere lasciate un like iscrivetevi col bottone rosso che sta qua sotto se non lo avete già fatto vi ringrazio molto per l'attenzione ci vediamo alla prossima lezione a presto ciao ciao